e ciao a tutti giro questo video perché sono stato avvisato che sabato vabbè già lo sapevo che è stata girata una live dove nella parte finale sono stato dileggiato e villaneggiato da dei gaglioffi online e quindi volevo dirti caro utente non scrivere cavolate come quelle che non mi prendo responsabilità di chi fa nomi degli altri perché hai permesso che si facessero delle offese verso altri utenti nel tuo canale e ne risponderai caro utente sei attenzionato sei nel mirino quindi ogni tua mossa ogni tuo respiro verrà passato ai raggi x ogni tua scoreggia ogni tuo alitata ogni tuo respiro verrà vagliato dagli organi competenti quindi caro mio d'ora in poi mi sei fatto un altro nemico io fino ad ora non volevo entrare nemico nei tuoi confronti ma mi ci hai portato colpa tua con questo tuo atteggiamento di finta neutralità se vuoi fare la morale falla a casa tua non fare il finto moralista scrivendo quelle frasi del cacchio non mi prendo responsabilità di chi fa nomi altrui allora o non si parla per nulla degli altri nel tuo canale o si parla completamente io sono entrato in campo e mi sono schierato tu invece sei un cacasotto un piscialetto e segnalami sto video